Si è conclusa con successo questa prima giornata di lavori a consulenza 2016, un'edizione che arriva dopo già il successo di quella dell'anno scorso, di numeri davvero impressionanti che ci racconta il padrone di casa, Maurizio Bufi, presidente di Anasf, grazie per essere con noi. Che cosa vi aspettate da questa edizione di consulenza? Sicuramente un successo importante della manifestazione è la terza, oltre 2.300 iscritti, temi caldi, temi importanti, temi di attualità e poi la cosa più importante è il riconoscimento anche formale che con la legge di stabilità ha attribuito il cambio definitivo di denominazione da promotori a consulenti finanziari. Quindi in una cornice di pubblico importanti temi che riguardano la nuova frontiera della consulenza finanziaria, che riguardano la percezione che il mercato ha degli operatori qualificati, temi anche importanti che riguardano il destino dell'Europa con il convegno del primo giorno. E ovviamente lo stato dell'arte dei mercati finanziari che hanno iniziato il 2016 in condizioni non certamente piacevoli. Quindi una cornice piena di contenuti, di persone e ci auguriamo anche di stimoli importanti. Domani dunque la seconda giornata, quali sono i convegni più importanti che non si possono perdere? Beh, quello sulla nuova frontiera della consulenza finanziaria, mentre il giorno successivo avremo la presentazione della ricerca di SVG sugli operatori qualificati. Entrambi di grande rilevanza, di grande appeal, di grande impatto. Quindi aspettiamo tutti coloro che si sono iscritti e magari anche di più. Bene, grazie allora Maurizio Buffi, ci ritroviamo ancora domani per seguire insieme la seconda giornata di consulenza. Grazie a voi, a domani. Grazie a voi.